ringrazio i ragazzi che sono presenti e colleghi e volentieri introduco il nostro ospite paolo ottolina è astigiano di origine anche se in questo momento per motivi di lavoro ruota intorno all'area di milano è giornalista presso il corriere della sera esperienza ormai decennale e si è concentrato in questi ultimi anni in particolar modo sul rapporto con la tecnologia a una tiene lui una rubrica sul corriere della sera mal di tec quindi se volete poi approfondire seguire conoscere meglio le sue riflessioni sicuramente troverete interessanti e le trovate sul sul corriere della sera detto questo ci guiderà oggi in questo incontro intanto a capire quali sono i fondamenti del giornalismo perché nasce quali sono i suoi scopi quali sono i suoi presupposti e poi soprattutto quello che forse riguarda più da vicino voi ragazzi qual è il rapporto con la tecnologia cioè come è cambiato il giornalismo oggi e che cosa significa fare giornalismo oggi perché le notizie sono facilmente accessibili a tutti ma sono tutte altrettanto affidabili ecco quindi ci sarà una una riflessione sicuramente interessante su su questo tenetevi pronte le domande perché alla fine dell'intervento avrete la possibilità di scriverle in chat e le presenteremo al al relatore detto questo non rubo ulteriormente tempo e lascio la parola a paolo tolina ciao a tutti intanto mi scuso se non doveste sentirmi bene purtroppo ho avuto un po di problemi di linea combinazione oggi qui a casa quindi se non mi sentite fate un cenno scrivete in chat vediamo di cambiare connessione secondo se spesso guarderò la mia sinistra non è che ho un suggeritore o sto leggendo ma ho la webcam davanti e ho uno schermo più grande a sinistra e quindi insomma una configurazione un po storta e quindi non c'è nessuno qua che mi dice quello che devo dire come grazie per l'introduzione al professor calcani alla professoressa cuneo sì il mio il mio lavoro negli ultimi anni è un lavoro un po strano nel senso che per la maggior parte del tempo mi occupo di mettere le notizie non tanto di scriverle ma di farle fare ad altri colleghi e di metterle di gestirle di titolarle di deciderle sulla home page quindi sulla prima pagina di del corriere della sera su internet quindi la pagina che trovate su corriere punto it e poi nel resto del mio tempo quando mi avanza spesso non mi avanza e quindi magari lo faccio di notte o quanto tempo vado in giro per il mondo a vedere un po di cose di tecnologia o meglio andavo in giro perché adesso come sapete insomma da più di di un annetto siamo sostanzialmente bloccati a casa quindi non si viaggia più e non si vola più non si va più in treno però speriamo di poter tornarlo a fare abbastanza presto con i vaccini e con tutto quello che speriamo la scienza ci ha già messo ci metterà a disposizione e quindi ho da sì da più di dieci anni un feeling quotidiano con tutto quello che la tecnologia ho preparato delle slide io so che insomma la settimana è stata lunga per tutti per me non è finita perché purtroppo nel mio lavoro si lavora anche sabato e domenica io devo lavorare anche domani dopo domani spesso mi capita di lavorare anche a natale a ferragosto a capodanno e d'altronde come voi sapete i giornali escono più o meno tutti i giorni siti internet sono aggiornati tutti i giorni e il mio è un po un lavoro come quello degli infermieri o dei vigili del fuoco non ci sono ci sono vacanze ma magari non quelle che fanno tutti e voi invece insomma spero che la settimana non vi abbia steso troppo e che abbiate ancora un attimo di lucidità ma cerco di non annoiarvi allora adesso cerco di proiettare delle slide vediamo se allora condivido la schermata ok ditemi se non vedete vediamo vediamo paolo non vedete parli perché a sto punto non vedo più voi quindi parlate al momento ti vediamo e sentiamo bene ok allora ho cercato di abbiamo una vastità di argomenti tale che sono stati introdotti bene dal vostro dirigente e che non basterebbero forse dieci incontri per parlarne dobbiamo parlarne in 40 50 minuti 45 minuti insomma poi lasciamo un po di spazio alle domande le curiosità anche quelle più strane tutte quelle che avete che volete togliere approfittate neppure io l'ho intitolata così giornalismo e tecnologia come digitale ha cambiato il modo di fare informazione come cresciuto il modo di raccontare l'innovazione io sono entrato per la prima volta a 26 anni al corriere della sera era all'inizio di questo secolo e tenete conto che in quel momento internet era una cosa per pochissimi addetti ai lavori per chi era più smanettone io era già almeno 45 anni che bazzicavo e scrivevo su internet che avevo scoperto all'università qualche anno prima e poi mi ero attrezzato per averlo anche a casa e in quel momento immaginate che al corriere della sera c'era ancora una cosa che si chiamava posta pneumatica a volte si vede nei film si infila un bussolotto dentro un tubo che aspira il bussolotto lo spara da un'altra parte dell'edificio faceva proprio un rumore tipo un pacco che cade e poi si apre il bussolotto e dentro c'è un foglio di carta e quello era il modo di comunicare ancora di vent'anni fa anche se iniziava esserci la posta elettronica e altri sistemi un po più moderni nel giro di pochissimi anni tutto è cambiato tutto è cambiato i giornali continuano a uscire vendono molte molte meno copie di quelle che vendevano diversi anni fa ma le notizie oggi sono molto molto più lette di quanto non fossero alcuni anni fa più lette più ascoltate più viste corriere della sera che il primo quotidiano italiano oltre che uno di quelli più antichi tenete conto che nei momenti di massimo successo è arrivata a vendere diciamo un milione di copie un milione di copie poi si stima che magari ogni copia veniva letta da più persone perché ci sono quelle lasciate nei bar nelle famiglie magari c'è più di una persona che lo guarda nelle biblioteche una stessa copia letta da molte persone si stimava che potesse essere letto da due milioni e mezzo tre milioni di persone adesso è il sito del corriere della sera ogni giorno solo sito ricorda la sera fa quattro milioni e mezzo cinque milioni quest'anno con tutte le notizie sul coronavirus nelle fasi più insomma anche più drammatiche quando ci sono state dei chiusuri lock down siamo arrivati anche a 12 13 milioni di elettori al giorno se poi ci mettete insieme tutti gli altri siti dei quotidiani siti delle tv e poi adesso andiamo a vedere tutti tutti i posti dove è finito il giornalismo qualcosa che assomiglia al giornalismo sicuramente possiamo dire che la vostra generazione riceve molte più notizie di quelle che riceveva la mia e molte molte di più di quella che ricevevano i miei genitori miei nonni e questo ovviamente ha cambiato le cose cambiato le cose perché ha cambiato il modo in cui si fanno i giornali ha cambiato l'approccio alle notizie cambiato la velocità con quelle notizie devono essere date e tutto questo porta a un distacco ancora maggiore da quella che è l'immaginazione rispetto alla realtà io qui ho messo un po di personaggi di film di fumetti che hanno a che fare col giornalismo io credo è forse perché faccio questo lavoro immagino che sia uno dei lavori su cui è più facile avere delle idee perché è una professione che è stata raccontata in tanti film in tanti cartoni animati in tanti fumetti e così ci sono personaggi famosi che fanno i giornalisti come clark kent che superman tenten dei fumetti francesi l'uomo ragno è un foto reporter quando non è l'uomo ragno e così via e così via la realtà sì per qualcuno che fa il mio mestiere può assomigliare un po a quella di questi personaggi per molti altri non c'entra proprio nulla per molti altri oggi lavoro è più simile a quello di un impiegato ecco di una persona che lavora in ufficio si lavora molto al telefono si va non troppo spesso in giro si lavora velocemente esattamente come magari si è costretti a lavorare in tanti altri lavori e quindi è un tutto un po meno romantico però poi dopo lo vediamo insomma è sicuramente comunque un lavoro speciale per tanti versi e io mi sento sicuramente fortunato poterlo fare non facciamo un corso di giornalismo in questa mezz'ora che avanza però vorrei partire da qua per capire che cos'è il giornalismo per capire come cambiate come la tecnologia chiaramente quando parliamo di tecnologia mi riferisco soprattutto a internet con internet che ha cambiato tutto però ecco per capire come cambiato dobbiamo cercare di capire che cos'è il giornalismo fondamentalmente è una mediazione c'è un racconto fra qualcuno che racconta e chi vuole ascoltare questo racconto quindi il pubblico da una parte è una fonte magari nella scuola ormai un po si fanno nostre cose che cos'è una fonte una fonte qualunque cosa ci ci dà una notizia può essere una fonte di queste sono cose che si portano all'esame di giornalismo ma non cerco non vi voglio annoiare è una fonte primaria è la polizia per dire oppure un decreto del governo oppure comunque una pubblica autorità una fonte secondaria è già un qualcosa di meno ufficiale è fondamentale verificarle queste fonti non è che se io trovo una notizia subito la scrivo o la do al mio pubblico devo cercare di capire se è vera nel giornalismo anglosassone quello americano inglese è obbligatoria la verifica di due fonti per cui se a me anche mettiamo il presidente della repubblica mi dice guarda il governo sta per cadere io non lo posso scrivere se non ho un'altra fonte che mi conferma questa cosa anche se me l'ha detto il presidente della repubblica non mi posso fidare per motivi di quella che si chiama deontologia la deontologia sono le regole di una professione e ogni professione ha le sue regole il medico ad esempio per deontologia deve curare chiunque li si presenti non può dire guarda tu sei brutto tu sei antipatico non ti curo e fa un giuramento per cui è vincolato anche a fare questo e così nel giornalismo ci sono una serie di regole essendo il giornalismo una professione un po strana non è come il medico che io non posso fare il medico perché non sarei in grado probabilmente uccidere il paziente mentre ha almeno apparentemente tutti possono improvvisarsi giornalisti e poi magari ci arriviamo queste regole a volte sono un po strane sono un po piegate sono un po distorte seconda degli interessi a seconda di come uno la pensa però ce ne sono alcune che sono sicuramente vincolanti e poi ovviamente il concetto che ormai esistono tantissimi tipi di giornalismo e arrivo alla slide dopo chi fa giornalista e qui riprendo il discorso delle regole del lavoro che faccio io hanno una serie non solo di regole ma anche di leggi a cui rifarsi la principale è l'articolo 21 della costituzione l'articolo 21 dice tutta una serie di cose fra cui l'inizio dall'articolo 21 quello fondamentale che dice tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola allo scritto e ogni altro mezzo di diffusione la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione censura ve lo leggo anche per farvi vedere che quando i padri costituenti hanno scritto la costituzione dopo la seconda guerra mondiale parlavano di stampa cioè alla fine quello era addirittura non c'era manco la tv quindi l'informazione arrivava solo ed esclusivamente attraverso la stampa attraverso i giornali che potevano essere quotidiani o potevano essere settimanali mensili oppure affissioni si poteva anche fare la stampa di manifesti che venivano poi esposti per strada e quindi ci si poteva informare anche così adesso questo articolo qua benché c'è la costituzione insomma è la legge fondamentale dello stato è un po superato nel senso che la stampa è un termine ampio che ormai comprende tutto anche chi fa tv si rifà questo articolo chi fa informazione su internet informazione alla radio informazione sui social media si rifà questo articolo però oggi parlare di stampa insomma è un po è un po superato e poi vediamo se riesco anzi lo apriamo di qua avevo già aperto qui ditemi se vedete se non vedete la finestra ok questo è il codice deontologico dei giornalisti cioè le regole che chi fa il mio mestiere deve rispettare su cui lo interrogano quando fai l'esame di stato per diventare giornalista professionista ti interrogano e ti chiedono anche queste cose qua e ad esempio ci sono delle delle regole molto importanti che anche qua non sempre purtroppo vengono rispettate una è il diritto di rettifica se io scrivo una cosa sbagliata e scorretta sull'artom di asti il dirigente ha diritto a chiedere una rettifica il mio giornale il mio giornale è obbligato a pubblicare questa rettifica cioè la versione dei fatti reali che io non ho rispettato un altro un altro articolo molto importante anche questo purtroppo soprattutto in tv tante volte in certe trasmissioni un po dimenticato e quello sui minori ad esempio se volessi fare un articolo su di voi almeno quelli di voi che sono ancora minorenni devo chiedere una liberatoria ai vostri genitori se un articolo positivo e non posso assolutamente scrivere i vostri nomi ma anche riferimenti ai vostri genitori alla vostra famiglia alla vostra scuola se ci sono fatti di cronaca gravi questo per tutelarvi per fare in modo che chi legge la notizia non possa dire a guarda ma quello lì è marco quello che va a scuola lì non si deve capire per cui spesso per questo che negli articoli che parlano di minori vedete francesco parentesi nome di fantasia si cambia il nome si mette un nome fittizio e poi non si scrive mai la scuola si dice al più un istituto di asti e non si dirà mai l'istituto arton di asti e così via poi ci sono tutta una serie di altri di altri articoli che insomma noi dobbiamo dobbiamo sempre ricordare adesso arriviamo a abbiamo detto che insomma c'era la stampa quando hanno scritto la costituzione adesso non c'è solo più la stampa ci sono tantissime forme di giornalismo poi cerchiamo di capire magari se si possono considerare giornalismo o sono qualcosa di diverso sicuramente la cosa che più si avvicina al giornalismo in molti ambiti e youtube su youtube trovate un sacco di youtuber che fanno comunicazione diciamo l'informazione è prendere una notizia e trasformarla in qualcos'altro di comprensibile per il pubblico la comunicazione la fanno tanti altri soggetti la fa lo stato la fa la scuola la scuola comunica con gli studenti la fa la fanno molto le aziende oggi le aziende comunicano con la pubblicità con la pubblicità sui social con i comunicati stampa che mandano ai giornalisti che a loro volta li rilanciano li modificano li utilizzano e così via in queste slide vi ho raccolto un po di anche di spunti per chi di voi dice se vabbè ma i giornali sono una pizza io non puoi giornale costano non lo compro non lo leggo e anche i siti ma non li capisco sono per i grandi ci sono altri modi per informarsi oggi o questa roba qui le racconto anche ai miei figli che hanno uno più o meno alla vostra età un po più piccola ma ogni tanto me lo dicono ma io papà al giornale a me a casa casa mia arriva ancora giornale di carta ma i miei figli anche loro non hanno tanta voglia di leggerlo quindi per dirgli vabbè ma se volete saper le robe non è necessario leggere un giornale o guardare un telegiornale potete trovarvi i vostri canali di informazione magari più adeguati alla vostra età è normale ci sono c'è youtube se siete appassionati di videogiochi trovate un milione di youtuber che parlano di videogiochi giocano in diretta eccetera giornalismo su youtube non ce n'è tantissimo è non ce n'è tantissimo questo ragazzo qua è un ragazzo sardo che si chiama alessandro masala fa questo canale di informazione fa lo stesso lavoro che fa il giornale nel senso che ogni giorno sceglie lui sceglie una notizia perché uno solo il mio giornale sceglie tante notizie adesso tanto per tanto per farvi vedere ok questa è la è non page del corriere in questo momento ve lo ingrandisco anche un po ci sono circa 200 notizie sull'home page del corriere fra notizie scritte la vedete ci sono tantissime notizie sia un po di ritardo notizie scritte video questo è un video sull'erozione dell'etna vabbè adesso non volevo farlo volevo farlo partire in pagina ma non sono riuscito ci sono articoli di commento ci sono articoli invece di cronaca che sono la maggioranza ci sono grafici ci sono un sacco di ecco questa è una roba che sono andato a fare ieri sono ieri sono andato con un ragazzo che mi aiuta a fare i video abbiamo fatto questo video su adesso partirà la pubblicità mi spiace ma purtroppo la pubblicità è quella che ci fa campare questo momento quindi vi beccate la pubblicità però ieri mi hanno chiesto se volevo venire a provare questo smartphone che molto strano che attraverso un tasto attraverso un meccanismo all'interno si allarga cioè diventa praticamente un tablet e quindi mi sembrava che la cosa migliore in questo per questa notizia fosse farlo vedere con un video e quindi siamo andati a fare un video vabbè questo sono io che racconto racconto delle cose adesso tolto l'audio non voglio ammorbare con la mia voce però tanto per farvi vedere come oggi anche chi lavora in un giornale deve fare un altro tipo di giornalismo che è il giornalismo fatto col video e questo è questa roba che sono a vedere ieri non è non è ancora in commercio e non è in commercio dovrebbe arrivare quest'anno comunque costerà un rene tendenzialmente vendere un rene per comprare sta roba però effettivamente era divertente piuttosto bizzarro da far vedere quindi sul giornale noi al giornale il mio direttore sceglie che notizie mettere in pagina il mio capo e io e altri colleghi scegliamo che notizie mettere sulla prima pagina del sito del corriere e poi invece su youtube ragazzi come questo che fa questo canale breaking italy sceglie le notizie di cui parlare e le racconta in un modo adatto a youtube e adatto al pubblico a cui si rivolge che tendenzialmente un po più grande di voi ma è sicuramente molto più giovane di me e ha creato questo format in cui racconta la notizia del giorno in questo caso parla di il concetto di reato d'opinione di questo rapper spagnolo che è stato arrestato per delle sue canzoni sinceramente questa è una vicenda che non conosco però se se vedete spesso sono storie di attualità anche nei giorni scorsi parlava del governo parlava di altre notizie grosse che abbiamo visto su tutti i telegiornali su tutti i giornali e così via torniamo un attimo alle slide oggi c'è chi si è spinto anche più in là fa delle cose strane strane per il giornalismo classico se avete instagram sicuramente avete instagram ci sono dei canali delle diciamo dei boh non so come chiamarli delle delle redazioni ecco delle redazioni che lavorano solo su instagram non hanno un giornale cartaccio non hanno neanche un sito internet fanno dei prodotti e vivono e muoiono solo su instagram uno ha fatto molto bene questo si chiama will e fa giornalismo sfruttando le caratteristiche di instagram quindi con delle immagini fisse che raccontano una storia con usando dei video vediamo ecco tipo questo qua si parla di di governo io non so se sentite l'audio lo devo abilitare io forse sentiamo paolo lo sentiamo si lo sentiamo basso ma lo sentite e beh perché l'ho sentito dal mio microfono certo ok adesso interrotto la condivisione credo sì e torno a questo canale instagram e poi addirittura addirittura insomma usando anche le storie di instagram quindi fanno delle storie ma non per fare i balletti o dire stupidaggini ma per raccontare una notizia in questa in questa storia instagram ci sono tutti i ministri del governo draghi quindi poi se volete leggervela con calma fate una pausa perché forse non riuscite a leggere tutto così in fretta e se no vi vedete tutte le schede sui singoli ministri e scoprite chi sono i ministri del nuovo governo un altro esperimento simile si chiama torcia e anche lui è forse ancora più indirizzato ai giovani ad esempio quando una specie di piccola inchiesta che parla proprio dei giovani cosa vuol dire essere giovani in italia con dei video e contributi insomma sull'essere giovani oggi altri esperimenti diciamo di giornalismo ultra contemporaneo sono frida frida è un magazine diciamo per rivolta alle donne che vive solo sui social anche questo non ha un sito internet vive prevalentemente su facebook e anche su instagram mentre un sito che magari conoscete di più perché ci capitate ci potete capitare dalle condivisioni social e fanpage che invece più un giornale online tipo corriere punto it ma è molto molto forte su facebook è sostanzialmente nato su facebook su facebook e poi si è si è allargato ultimamente a livello di informazione che deve ragionare con la tecnologia e coi cambiamenti che la tecnologia porta c'è tutto il tema podcast non so se qualcuno di voi segue qualche podcast sono i podcast vabbè sapete cosa sono sono insomma una versione internet la dico male è per semplificare per chi non avesse idea della radio sono programmi radio ma fatti attraverso delle piattaforme che vivono su internet che si ascoltano attraverso un'app e in america vanno molto forte da due tre anni in italia sostanzialmente esistono anche qua da tanti anni ma sono esplose sostanzialmente l'anno scorso diciamo dal 2019 in avanti anche il corriere dei podcast ce n'è uno che un mio collega fa tutti i giorni con ospiti eccetera ed è un modo per raccontare in 20 minuti quello che è successo nel giorno prima e oppure ci sono esperimenti proprio di giornalismo fatto sulle piattaforme per audiolibri e podcast come story tell se qualcuno fosse abbonato magari vuol provare un abbonamento di prova questo è un ragazzo giovane che tra 20 e 30 anni diciamo che si è messo a raccontare che cosa è stato il terrorismo in italia provando a raccontarlo per i giovani come lui o anche quelli più giovani di lui come voi che non ne hanno mai sentito parlare magari l'hanno letto sui libri ma non lo sanno e l'ha fatto in audio con un sacco di voci un sacco di testimoni eccetera quindi ci sono tanti tanti modi di fare giornalismo tutti questi modi però hanno un punto in comune cioè il fatto che giornalismo l'abbiamo detto prima è mediazione fra una fonte e un pubblico e soprattutto racconto io ho avuto la fortuna in questi anni di poter raccontare andando sui posti quindi per le cose che ho fatto di tecnologia sono stato tante volte negli stati uniti sono stato in cina hong kong sono stato in giappone sono stato a shanghai ho intervistato tim cook il l'amministratore delegato di apple e ho avuto la possibilità di quindi di raccontare le cose dove le cose accadono e se uno è un reporter di guerra alla fortuna o la sfortuna e dipende dai punti di vista se ce l'è scelto per lui sarà una fortuna di andare in zone di guerra se è un giornalista politico di vivere molto nel parlamento o vicino alle sedi politiche e se un giornalista economico frequenterà le grandi aziende la borsa e così via è fondamentale comunque questo racconto che deve avvenire dove le cose accadono ovviamente i cronisti miei colleghi cronisti vanno dove sono accaduti i fatti di cronaca nera i delitti oppure dove comunque è accaduto un fatto importante stavo vedendo ecco se c'era qualche cosa di ecco mio col questo mio collega qua è un collega rinaldo un collega di roma che si occupa di cronaca nera roma ieri da roma è andato a formia che una cittadina del delle del lazio in cui comunque è successo questo delitto è stato ammazzato questo questo ragazzo e lui sicuramente ieri è stato lì tutta la giornata parlato con i parenti ha parlato con la polizia parlato con gli avvocati di di quelli che sono di un minorenne come voi ragazzi 16 anni che è imputato per questo delitto e questo vuol dire raccontare sul posto perché purtroppo fare tutto al telefono o attraverso internet non solo non si può c'è purtroppo sempre più spesso accade non si può perché non funziona sempre e non si può perché per capire le cose spesso è necessario essere dove le cose accadono chiaramente quest'anno con la pandemia abbiamo fatto tantissime cose come questo incontro via zoom le interviste si fanno via zoom le presentazioni si fanno via zoom o via teams le riunioni si fanno via team se vabbè ci siamo adeguati poi in qualche modo finirà e torno alla slide aspetta che ricondivido no ok la vedete ancora si vedete il mio desktop ok e qui arriviamo questi ok lo vedete so che questi incontri servono anche a darvi degli spunti su che cosa che cosa c'è lì fuori finita la scuola voi fate una scuola che vi prepara sicuramente bene su certe materie magari qualcuno mi dirà ma io giornalista non voglio fare perché tanto non so scrivere poi boh poi non mi interessa e poi comunque non so scrivere perché poi alla fine molti di quelli che magari invece mi chiedono ma io vorrei fare giornalista perché mi piace scrivere diciamo che c'è sempre un po questa roba qua no che essendo un po torniamo alla costituzione la stampa quindi la stampa una roba scritta quindi se una roba scritta devo sapere scrivere verissimo però appunto come avete visto c'è anche gente che può non sapere scrivere perché magari fa il giornalismo su youtube non sapere scrivere perché fa dei video su instagram ormai ci sono oppure magari una bellissima voce magari fa un bellissimo podcast però non sa scrivere fa niente però se è una bellissima voce sa raccontare le notizie magari può fare quel lavoro però al di là di quello internet ha cambiato non solo il rapporto fra noi giornalisti e il pubblico la velocità con cui dobbiamo andare le notizie dove si vanno a vedere le notizie come si fanno a fare ma anche un sacco di cose nelle nostre redazioni io sono in una redazione dove ci sono tanti miei colleghi giornalisti ma ci sono tante altre persone non così tante ma aumenteranno per questo ve lo racconto perché quando voi sarete un po più grandi magari vi avvicinerete al mondo del lavoro ci sono dei lavori che stanno iniziando a diventare importanti quello che sicuramente oggi già più diffuso è questo qua è il seo seo è una sigla non so se qualcuno l'ha mai sentita ma nel mondo del marketing e anche ormai sempre di più nel mondo del giornalismo è sempre più importante è il rapporto fra google e noi alla fine quando vogliamo trovare una notizia cosa facciamo andiamo su google e scriviamo ad esempio voglio sapere sei domani ma facciamolo l'esperimento guarda ve lo faccio in diretta dai allora domani voglio sapere se la lombardia dove vivo io sarà ancora in zona gialla e quindi io potrò uscire andare a bere il caffè al bar oppure devo prendere il caffè da trasporto perché torniamo in zona arancione allora io magari vado e cerco lombardia zona gialla vediamo e faccio una ricerca e allora google mi propone una serie di notizie ci sono queste che sono il carosello di google sono le top stories quindi c'è tg com ma calcio mercato che non so bene cosa c'entri con una roba che non è calcio mercato quotidiano net qua sotto c'è il corriere che dice questa roba qua la lombardia e la lazio rimangono gialle ben meno male vuol dire che domani potrò uscire tranquillamente magari andare a bere il caffè al bar quando farò una pausa di lavoro se vedete questo titolo è fatto in un certo modo c'è scritto lombardia zona gialla punto anche in lazio prevale la linea eccetera eccetera la linea dei governatori questo titolo qua non è stato fatto caso è stato fatto secondo certi criteri che presuppongono che la gente cerchi una certa cosa ad esempio io non lo sapevo e ho cercato io lombardia zona gialla i miei colleghi in redazione hanno fatto lo stesso ragionamento hanno detto secondo me cercheranno lombardia zona gialla e hanno fatto quel titolo lì perché se voi fate il titolo giusto google vi dà più punti diciamo e quindi trovate prima quel sito e se io lavoro in quel sito interesse che il mio sito venga trovato prima di questi altri siti qua poi dipende anche un sacco da un sacco di altre caratteristiche il fatto ad esempio che il corriere è un sito molto seguito molto reputato e quindi arriva prima di siti sconosciuti se voi oggi create il vostro sito che ne so www.artomnotizie.it e fatto una notizia lombardia zona gialla non è che la troverete qua perché è un sito nuovo nessuno lo conosce ha bisogno di farsi conoscere così via però l'hanno fatto non solo ragionando ma anche appoggiandosi a dei professionisti del seo noi abbiamo delle persone in redazione aiuto ecco che fanno solo il seo o la seo come sarebbe più corretto dire ma alla fine essendo che finisce però in italiano tendiamo a dire il seo perché le parole che finiscono però ci piace dirle al maschile e forse finisse per a diremo la sea ma si dice il seo e quindi hanno studiato già dopo le scuole superiori o all'università o comunque per conto loro i principi che governano la ricerca su google e sta diventando super importante questa cosa poi vi faccio un altro paio di esempi un altro lavoro che oggi è importante è quello di analizzare i dati oggi tutto è basato su dati adesso siamo in pandemia vedete che ogni giorno danno i dati sulla pandemia quanti malati quanti positivi quanti ricoverati perché le decisioni si prendono sempre di più in base ai dati e anche noi questo non so se lo vedete non dovrei farvelo vedere è una cosa riservata ma tanto voi non lo dite a nessuno questo è uno strumento che usiamo noi in redazione che ci dice in tempo reale quanti lettori stanno leggendo cioè noi sappiamo esattamente che stanno leggendo non è che hanno una pagina aperta su quella notizia proprio la stanno leggendo perché sanno che ad esempio stanno muovendo il mouse e stanno scrollando la pagina e ad esempio sappiamo che nell'ultimo minuto quindi tra le 15 e 50 le 15 e 51 c'erano 2077 persone che stavano leggendo la notizia quella che ho una di quelle che ho aperto io prima ecco la la questa è la seconda questa è la prima che un'altra notizia sempre sullo stesso tema quali regioni diventano di quali colori e qui mi dice invece mi dà dei dati più generali capiamo se oggi abbiamo avuto pochi lettori ne abbiamo avuti di più eccetera questi dati ci servono per capire come strutturare le notizie quindi capire che ad esempio io devo mettere prima le notizie che riguardano il corona virus e dopo le notizie che riguardano la politica perché da quello che vedo interessano di più le notizie sul covi e meno quelle sulla politica poi non funziona sempre così a volte metto magari prima quelle sulla politica perché quel giorno lì c'è il governo c'è una cosa importante o c'è un attentato in un paese lontano che magari all'italiano interessa poco ma insomma una storia importante però questi dati ci aiutano a prendere decisioni che vanno nella logica di farci leggere di più e non di meno e di dare notizie rilevanti per il pubblico piuttosto che notizie inutili paolo se ritieni se ritieni se vuoi metterci anche in chat qualche link che ritieni così significativo che i ragazzi possano poi vedere prendere vi posso condividere questa slide forse qualche modo perché nella slide ci sono i link delle cose che sto dicendo quindi sia dei canali instagram che abbiamo visto prima sia di queste robe qua non so adesso vediamo se riesco a non ti preoccupare l'evento è comunque registrato quindi i ragazzi avranno la possibilità anche di di riguardarlo e di dice che non posso inviare messaggi perché non sono un membro della chat va bene ma non c'è problema lo recuperiamo che no anna tu hai quel file se vuoi lo metti tu nella chat dovresti in basso dovresti poter condividere condividere il file non c'è niente di segreto tranne questo link a questo tool che vi ho fatto vedere con i dati ma tanto voi non potrete accedere un altro filone importante che sta diventando sempre più importante è quello del giornalismo grafico quindi saper maneggiare i dati questo sono i miei colleghi del sole 24 ore c'è un mio amico che si chiama luca che lavora lì e di lavoro fa proprio questo ogni giorno deve inventare deve trovare delle notizie da raccontare in maniera visuale utilizzando anche qua tutta una serie di strumenti più facile che la base di tutte queste robe excel o comunque un foglio di calcolo però poi ci sono tutta una serie di strumenti questo che adesso è fatto con questo è fatto con tablo che uno strumento online a volte si usa flourish che un altro strumento credo che ormai di proprietà di google che serve a trasformare i numeri dati in delle infografiche infografiche che devono anche essere possibilmente manipolabili dal lettore per tirar fuori le informazioni che più gli interessano il giornalismo grafico richiede spesso il lavoro di un giornalista con dei tecnici o comunque delle persone esperte di questi sistemi e poi ancora un filone ancora diverso è quello che mette insieme qui magari vengo più a cose che voi studiate a scuola almeno che alcuni di voi studiano quello che mette insieme il giornalismo con il vero e proprio programmazione informatica anche se in alcuni casi semplici in alcuni casi più complessa questa è un questo reportage con la mia collega ha fatto qualche anno fa alle isole svalbard che sono un posto remoto della norvegia molto bello e molto in cui vanno poche persone che ha avuto un grande successo perché appunto racconta qualcosa di abbastanza strano lei ha girato una serie di video ha fatto delle foto che sono state poi inserite in maniera molto visiva in questo racconto delle mappe animate ci sono delle gif animate che vanno in loop insomma sia visivamente delle delle gallerie di foto e ve lo facevo vedere perché lei l'ha fatto ma ha lavorato con un diciamo un informatico della nostra redazione che ha fatto a mano tutto l'html almeno tutta la parte di rappresentazione visiva in modo che l'articolo venisse fuori esattamente come la mia collega voleva e avesse l'impatto esattamente che lei voleva e sempre di più spesso noi abbiamo sviluppatori informati sviluppatori software in redazione che creano delle cose che poi ci servono per raccontare le notizie in un certo modo quanto tempo abbiamo ancora anna allora direi che possiamo ancora dedicare cinque minuti e poi lasciare spazio alle domande a qualche curiosità ho visto che insomma qualche domanda in in chat c'è già per cui lasciamo poi spazio a questo se hai voglia di rispondere certo assolutamente allora andiamo a concludere primo detto un po della differenza fra giornalismo e comunicazione che non sono hanno molto a che fare ma non sono la stessa cosa sì nelle quando non faccio l'home page di correre puntite quando io racconto le notizie di tecnologia un tempo dovevo confrontarmi con riviste specializzate che oggi qualcosa c'è ancora in edicolo ma sostanzialmente non c'è più oggi molta dell'informazione cioè tutta l'informazione sostanzialmente che riguarda la tecnologia sta su internet molta si è spostata su youtube con persone delle cose che faccio io che parlano soprattutto di dispositivi di oggetti innovativi di aziende innovative eccetera magari ne conoscete qualcuno andrea galeazzi andrea bentivegna eccetera ecco loro fanno giornalismo non fanno giornalismo fanno giornalismo perché alla fine fanno le stesse cose che faccio io non sono giornalisti quindi non sono obbligati a rispondere a quelle regole deontologiche che abbiamo visto prima io ad esempio non posso fare pubblicità se facessi pubblicità e il mio ordine professionale dei giornalisti mi può sanzionare mi può multare mi può anche speller se fossi soltanto uno youtuber potrei fare quello che mi pare tant'è che molte delle cose che vedete su youtube sono pubblicità più o meno dichiarata lo possono fare funziona per le aziende che trovano un modo per fare pubblicità mascherata da notizie funziona per chi la fa perché prende dei soldi e a quanto pare piace il pubblico interessa relativamente poco questa commissione fra notizia e pubblicità lo dico in maniera molto neutra perché si vede dai numeri come funzionano queste robe qua volevo solo farvi vedere un altro paio di cose al volo uno quando parla di influencer che ormai in molti casi fanno anche il mio lavoro diceva ma influenzano non influenzano può avere le sue opinioni ci sono delle evidenze che dicono che funzionano nel senso che questo ragazzo qua marquis brown lee è un ragazzo che incontro a volte quando vado a seguire degli eventi in america lui adesso ormai è una star a 13 milioni di follower è veramente super seguito qualche mese fa quando se non voglio entrare nei dettagli ma c'era l'iphone aveva aggiornato io essere sistema operativo quindi era possibile andare a cambiare le icone lui aveva pubblicato se vedete qua un set di icone particolarmente belle che erano state create da un designer inglese solo per il fatto che lui aveva menzionato queste icone nel suo video questo designer inglese ha guadagnato 77 mila sterline di gente che ha comprato le sue icone in una settimana cioè promette ha fatto più soldi in sette giorni di quelli che aveva fatto in tutta la sua vita grazie al fatto che uno che ha 13 milioni di follower l'ha menzionato nel suo video quindi capite che l'impatto è notevole anche in italia ci sono personaggi anche del mondo giornalismo che ammassano milioni e milioni di follower e quindi sono un fenomeno di cui tener conto ma tagliamo corto questo velo giro ve lo vedete voi l'ultima cosa che riguarda i lavori altamente innovativi e tecnologici informatici che hanno a che fare col giornalismo riguardano tutto il filone dell'intelligenza artificiale ormai è sempre più usata ed è usata anche nel giornalismo soprattutto già in america questo questa il washington post che è uno dei grandi giornali americani questa è una notizia di football americano a livello di scuole superiori come voi ed è una notizia interamente scritta dal computer c'è nessuno ci mette mano il computer prende dei dati c'è un software che è in grado di elaborare questi dati e di trasformarli in notizie se voi la leggete è una notizia come quella che potrebbe scrivere qualunque cronista locale che va lì e racconta questa partita fra liceali americani europe town patriots visiting eccetera eccetera insomma nel secondo quarto ha una serie di a un set linguistico a cui lui attinge trasforma i dati in frasi in inglese e addirittura su questo filone usando quelli che si chiamano deep fake io oggi non sono entrato nel tema fake news ma non so se avete mai sentito parlare di questa cosa del fatto che attraverso di software e attraverso un attore possibile far dire delle persone cose che non hanno detto questo è obama che dice delle cose assolutamente assurde vediamo qui vi fanno vedere come l'hanno fatto hanno preso questo è giordano p che è un regista e attore americano che assomiglia vagamente obama manco troppo però comunque ha detto queste frasi hanno montato la faccia di obama il corpo di obama sulla faccia di questo regista e e anche la voce di obama è stata ricreata al computer questo si chiama deep fake ed è un fenomeno anche abbastanza preoccupante e che è possibile anche riprodurre da casa e lo stanno pensando stanno già implementando nel giornalismo questa è una notizia come quella di prima ma invece che si è scritta al computer è creata dal computer in video con un giornalista che non ha mai detto queste cose ma sembra che le abbia dette grazie al computer qui parla di calcio hanno preso un vero giornalista l'hanno campionato al computer e poi attraverso i software riescono a farlo parlare ma non come un robot come una persona vera quindi queste sono frontiere ancora più avanti che sicuramente per chi lavora a livello queste sono quasi interamente anzi sono informatiche basta cioè questa è pura computer science non ha molto a che fare col giornalismo nel senso che poi giornalisti non ci mettono mano non ci mettono voce e quindi riguardano prevalentemente gli informatici ma hanno a che fare ma in maniera anche un po inquietanti se vogliamo col modo di fare informazione mi fermo prendiamo le domande si intanto ti ti ringrazio perché è stato insomma una visione ampia sui presupposti ma anche proprio su su alcuni aspetti più recenti e per certi aspetti anche così un pochino scioccanti perché uno si aspetta dice ho trovato una notizia ecco la dice un personaggio famoso vedi obama lo dice quel giornalista che invece insomma scopriamo che che non è detto che non tutto quello che che vediamo effettivamente come ci sembra e ti giro delle domande perché qualcosa è già emerso per esempio ecco te lo dico noi da da quest'anno alcuni ragazzi volenterosi seguiti da alcuni docenti altrettanto volenterosi certamente hanno avviato questa attività di giornalismo nel senso riferito al nostro istituto alla nostra realtà locale quindi sicuramente qua tra gli studenti presenti c'è qualcuno di loro che magari ha idea in modo più chiaro di quello a cui tu facevi riferimento e ed è sicuramente interessato non soltanto all'aspetto tecnologico che ci hai anche fatto scoprire e che può essere sicuramente interessante per dei ragazzi che frequentano un istituto tecnico ma anche proprio per l'aspetto giornalistico delle notizie della preparazione del dell'articolo del pezzo c'è una domanda c'è un così un suggerimento che chiede insomma il ruolo delle donne potremmo chiederti quante colleghe hai rispetto agli uomini ai colleghi maschi si occupano solo di moda e di cucina o il loro ruolo insomma è diverso ecco intanto inizio presentarti questa ok no direi che in questo momento storico le donne almeno numericamente se non sono la maggioranza quasi nel senso che molte mie colleghe sono donne quello che manca è come in molti altri ambiti dalla politica la grande industria eccetera è la rappresentanza delle donne altissimi livelli giornale in cui lavoro è fondato nel 1875 dunque siamo a quasi 150 anni di storia non ha mai avuto un direttore donna noi adesso abbiamo una una condirettrice e barbara stefanelli quindi è una persona che co dirige il giornale col direttore che però è quello che lo firma e abbiamo un'altra vice direttrice che fiorenza sarzanini che star home abbiamo molte molte firme importanti che scrivono anche di soprattutto di politica di economia e anzi se andate se andate se andiamo aspetta e vediamo se riesco a ricondividerlo schermo al volo scusate se volevo tornare tornare all'home page vediamo ecco di firme di donne ne vedete tante e monica guerzoni e fiorenza sarzanini fiorenza è diventata vice direttrice da poco e monica scrive di politica roma stefania chiale una collega della cronaca di milano elisa in redazione con me erica a roma gianna si occupa si occupava di politica adesso si occupa di scuola però è una caporredattrice ecco però vedete che ad esempio in questo momento di editoriali editorialisti quelli che hanno la faccina che hanno il diritto diciamo di esprimere le loro opinioni e in questo momento non c'è nessuna donna quindi sicuramente c'è molto lavoro da fare abbiamo anche degli uomini che si occupano di moda comunque non io non capisco nulla bene bene senti io invece la domanda che ti faccio è come dire più legata anche all'aspetto dei dei viaggi perché so che una parte importante della tua attività ha proprio a che fare con il viaggiare no cioè con il vedere da vicino quello che di cui si sta parlando e vorrei farti questa domanda è possibile cioè in quest'ultimo anno è stato una necessità perché il covip ha come dire limitato moltissimo gli spostamenti quindi per necessità tante cose avete dovuto farle a distanza è pensabile che questa modalità sia ormai diventi quella così normale a cui ci si può affidare o effettivamente la presenza è necessaria soprattutto in alcuni in alcuni contesti vabbè esprimo un'opinione estremamente personale non credo che torneremo esattamente al mondo di prima nel senso che alla fine non viaggiare è molto più conveniente di viaggiare per le aziende e quindi si è scoperto che comunque molte cose si possono fare a distanza e quindi molte cose si continueranno a fare a distanza ad esempio per le cose di tecnologia che seguo io a me capitava spesso di andare a delle fiere come poteva capitare a gente che fa altri lavori soprattutto commerciali le fiere erano un grande momento di incontro e di persone da tutto il mondo e il momento per vedere le cose dal vivo e credo che le fiere faranno fatica a riprendersi per dire perché facendo delle grandi presentazioni online alla fine quello che le per dire magari le aziende piccole grandi vogliono comunicare si riesce a farlo stesso per altre cose no nel senso che i miei colleghi dello sport per dire hanno già ricominciato da un po' a viaggiare ieri un mio collega era a Belgrado a vedere Stella Rosso a Milan e quelli che fanno la politica in questi giorni un mio collega da Milano che fa i video è stato fisso a Roma per intervistare comunque parlare con le persone della politica per il cambio di governo quindi no sarà è imprescindibile spostarsi e andare a vedere le cose rimarrà fondamentale anche se qualche pezzetto mi sa che ce lo perderemo bene ascolta io lascerei un attimo la parola anche a una nostra studentessa e ti dico il nostro istituto è a una come dire sono per lo più i ragazzi maschi i nostri utenti però negli ultimi anni abbiamo anche una rappresentanza femminile sempre più nutrita e soprattutto molto determinata Ilaria tra l'altro è rappresentante di istituto e attiva anche lei appunto nella redazione del giornalino per cui d'istituto le lascerei la parola così se hai qualche domanda o qualche suggerimento qualche riflessione che vuoi condividere con il nostro giornalista volentieri allora buongiorno come diceva russalessere mi chiamo Ilaria e ho dato un po' e ho l'iniziativa per questa appunto per spingere un po' i studenti di Unitis che si sa che esiste lo stereotipo che nei Unitis non sanno scrivere ho voluto un po' spingere appunto i miei compagni in tutta la scuola a scrivere, a creare questo giornale su cui lavoriamo che oltretutto è online perché hai visto il periodo poi hai visto anche che vorremmo raggiungere non solo un pubblico segnato dai nostri confini scolastici ma anche dove è possibile fuori una cosa che mi piacerebbe commentare con lei è quando prima ha detto che sì è necessario ovviamente per un giornale scritto è necessario per scrivere ma non solo e mi piacerebbe praticamente dire tutto ai miei compagni che sì è vero essere bravo a scrivere va a nostro favore ma mi serve anche una passione, un interesse e una curiosità per il mondo che non tutti hanno e volevo sapere cosa ne pensava lei Ok, grazie Ilaria, intanto svelo che non ho fatto il classico io, non ho fatto manco lo scientifico io ho fatto il jobber quindi anche io in teoria non facevo una scuola in cui si andava perché sapevi scrivere ma anch'io mi sono appassionato proprio col giornale scolastico e ho capito che mi piaceva quella roba lì e quindi non è mai troppo nella vita avete ancora davvero tante scelte da fare quindi non canalizzatevi in quello che la gente vi dice che dovreste fare perché avete scelto una certa cosa avete tutte le opportunità davanti e anche dopo i 30 anni, anche dopo i 35 ormai nel mondo di oggi avete modo di cambiare lavoro e di crearvi un percorso che vi piace sì, hai detto una cosa giustissima, la cosa fondamentale di chi vuole fare il giornalista comunque di chi vuole fare comunicazione in tutte le forme e essere curioso leggere molto scusate, sento sento un ritorno senti un ritorno aspetta ma può darsi che mi si scusate ah ok, no no, è di qua ok, scusate, è il mio computer la cosa fondamentale è la curiosità la curiosità per il mondo la curiosità per raccontare il mondo per raccontare cose che non si sanno per scoprire cose nuove se riuscite a raccontarle da dove accadono ma anche ad asti accadono delle cose che magari sono da raccontare a quelli che non sono di asti anche nella vostra scuola accadono delle cose che sono da raccontare a quelli che non sono nella vostra scuola se avete la curiosità e la voglia quella è la prima base poi a scrivere si impara come si impara a fare i video come si impara a fare la radio io ho fatto una scuola la scuola di giornalismo che ho fatto a Milano mi hanno iniziato a fare la radio ed era una roba terribile per me perché avevo un accento astigiano credibile se lo sentite poi alla radio è bruttissimo però poi si impara si impara si fanno i corsi si fanno i corsi di dizione anche se non diventa perfetta magari va bene uguale si migliora nello scrivere si migliora nel raccontare però la curiosità deve sempre restare lì bene grazie un'altra cosa che vorrei chiederle è se le andrebbe di concederci un'intervista a uno dei nostri ragazzi della redazione nei giorni più avanti o settimane volentieri certo ci sentiamo si 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 tramite vi metto poi in contatto esatto vi metto poi in contatto ci sentiamo in video via Teams via Skype via Whatsapp quello che ci pare grazie ti giro ancora una domanda di un nostro studente che ha a che fare proprio con così con i fondamenti del giornalismo cioè dovrebbe essere una pratica imparziale oppure no chiede Nicola sì sicuramente ha a che fare con i fondamenti del giornalismo ma la risposta è talmente lunga anzi la risposta non c'è nel senso che sono credo 300 anni da quando sono usciti le prime pubblicazioni a stampa che si parla di giornalismo e di obiettività una volta si diceva obiettività io penso che la stella polare che deve guidare un giornalista è il racconto dei fatti e quindi i fatti hanno una loro verità io posso pensare quello che voglio ma se racconto le cose come stanno sto facendo il mio lavoro poi c'è sicuramente soprattutto in Italia un'ampia parte di giornalismo che invece ha a che fare con le opinioni nel senso che anche come vi facevo vedere c'è una parte di editoriali che sono articoli che partono da dei fatti ma che poi sviluppano un'opinione molto precisa l'importante in quei casi è non avere dei secondi fini cioè essere anche trasparenti negli obiettivi che uno si prefigge quando sviluppa una certa opinione intendo se sono il giornale il sole 24 ore è il giornale che vi ho fatto vedere prima è il giornale di Confindustria Confindustria è l'associazione che riunisce tutti gli industriali se il sole 24 ore fa un editoriale per dire bisogna riaprire le aziende perché non si può fermare la produzione per il virus è evidente che non è al punto di vista dei medici o dei virologi o degli epidemiologi al punto di vista degli industriali chi compra il sole 24 ore dovrebbe saperlo o probabilmente lo sa oggi è un po' più complicato perché magari voi arrivate a una notizia su internet su facebook su whatsapp magari su whatsapp perché ve la gira qualcuna su twitter su instagram un po' meno perché non ci sono i link comunque magari da google ci arrivate per caso non sapete niente di quella testata lì niente adesso non so se riesco vediamo sto guardando i dati in questo momento sul Corriere della Sera solo il il dunque 27.000 sì un po' meno della metà solo un po' meno della metà è un lettore così detto leale sì leale cioè che ha un rapporto di fiducia con il mio giornale che è passato sul sito del Corriere almeno 8 volte negli ultimi 16 giorni che è pochissimo cioè vuol dire che una volta ogni due giorni passa sul sito del Corriere e per questo è considerato un lettore fedele ma capite che se passa una volta ogni due giorni non è un lettore fedele già è uno che ci passa un po' per caso tutti gli altri non ci sono mai passati negli ultimi 16 giorni quindi è gente che ci arriva per caso e non sa nulla del Corriere non sa nulla magari di un pezzo che ha fatto Paolo Ottolina non sa nulla e quindi in quel momento è completamente nelle mani di chi scrive e oggi è più complicato quindi per quello dico che attenersi alla verità dei fatti è la cosa fondamentale poi ognuno si comporta secondo coscienza ecco allora diciamo così facciamo anche questa domanda insomma che si lega in qualche modo quanto un giornalista è libero all'interno di una testata che ha un certo indirizzo quanto è libero di esprimersi quanto la libertà di espressione di opinione è valida all'interno di una testata che ha un certo indirizzo allora intanto sfatiamo una verità nel senso che sfatiamo una bugia che è quella che tutto è preordinato tutto è studiato a volte le cose sono anche abbastanza casuali un titolo nasce in maniera casuale un articolo lasce in maniera casuale non è che ci sia un ragionamento preciso dietro a tutto e poi oggi come abbiamo visto ci sono talmente tante fonti di informazione talmente tanti canali talmente grande la possibilità di arrivare alle notizie che non è più assolutamente come una volta non c'è nessun giornale ma nessun influencer nessun telegiornale che possa da solo orientare un'opinione se lo fa è perché entra dentro una valanga di notizie che tutte tirano nella stessa direzione detto questo chi lavora in una testata sa l'orientamento di quella testata e sa ecco poi l'organizzazione dei giornali e comunque dei telegiornali e comunque delle grandi fonti di informazione è un po' come una caserma io in questa caserma al momento sono come un tenente non sono un soldato ma non sono neanche un generale sopra di me ci sono dei generali e soprattutto c'è il direttore che è un po' come il re cioè alla fine il direttore decide questo sì questo no questo titolo non va bene questo non è che si occupa di tutti i titoli di tutte le notizie però se se ne occupa decide lui anche perché se io scrivo una falsità sull'istituto Artom il preside mi querela mi porta davanti a un giudice e dice lei ha scritto una falsità il mio direttore viene con me in tribunale e rischia di andare in galera con me quindi decide perché c'è un principio di responsabilità di autorità ma che è legato a un principio di responsabilità e quindi alla fine è molto gerarchico nei giornali vi faccio un esempio ieri abbiamo pubblicato una notizia insomma c'era una notizia su Google che era abbastanza aggressiva nei confronti di Google il direttore ci ha chiesto di toglierla e poi di rifare una notizia più neutra perché noi abbiamo interessi a mantenere comunque una relazione cordiale con Google ok non vi sento più adesso noi ti sentiamo eh Paolo ok no niente quindi questo ci sono ci sono delle forme di autocensura nel senso che chiunque lavora in un posto sa fin dove può arrivare e dove non può arrivare e ci sono le regole che il direttore detta perché nelle sue capacità e nelle sue possibilità senti un'ultima domanda direi se non ci sono altre altre cose quanto effettivamente insomma poi è una questione personale però quanto valgono le le pressioni magari non semplici cioè può essere una pressione economica un incentivo diciamo così o una pressione così psicologica a scrivere qualcosa che non pensi in cui non non credi in cui in cui non ti riconosci allora quando prima vi ho beh molto rapidamente l'abbiamo fatto perché appunto mi sono accorto che era un po' lunga la presentazione però quando prima ho cercato di distinguere fra chi è giornalista e chi non lo è non era solo per parlare del rapporto con la pubblicità che io ad esempio non posso fare e un giornalista può fare ma era anche per dire che ci sono delle regole che non solo mi obbligano a non fare certe cose ma che mi tutelano ad esempio se il mio giornale mi vuol il mio direttore mi dice scrivi questo pezzo qua io non diciamo non posso rifiutarmi perché me lo chiede il mio direttore però ho il diritto di ritirare la mia firma cioè di dire io scrivo questo pezzo ma non lo firmo perché non voglio che la mia firma compaia sotto questo pezzo è un mio diritto e questo lo posso fare con qualunque direttore se un domani il Corriere della Sera venisse venduto e venisse venduto che ne so ai cinesi perché i cinesi comprano tutto e i cinesi mi obbligano a scrivere delle robe contro gli americani e a favore dei cinesi io non sono d'accordo perché penso che invece la democrazia americana sia fondamentale per il mondo e i cinesi non mi piacciono potrei rifiutarmi di firmare gli articoli non solo potrei anche potrei anche uscire dal giornale chiedere di uscire dal giornale e di non lavorare più per quel giornale senza dare preavviso o una serie di tutele è chiaro che fino a un certo punto poi devo nascondere che ovviamente negli ultimi anni essendo che l'industria in particolare l'industria della carta stampata ha avuto molte difficoltà economiche le pressioni economiche sono molto forti e se ad esempio facciamo in Italia una delle industrie più importanti è l'industria della moda ok voi raramente anzi mai praticamente mai troverete sui giornali dei pezzi che parlano male di Dolce Gabbana di Prada di Versace e delle altre aziende italiane perché queste aziende qua hanno un alto potere nei confronti dei media perché spendono moltissimi soldi in pubblicità e in cambio chiedono cioè chiedono il patto non è che chiedono non è che mandano una lettera cioè si sa che non devi parlare male di Dolce Gabbana perché sennò Dolce Gabbana non ti fa più pubblicità e Dolce Gabbana fa non lo so e dico una cifra a caso 50 milioni di pubblicità sul nostro giornale all'anno e non ne puoi fare a meno perché è come se da un momento all'altro ti toglie essere un pezzo di stipendio e quindi lo sai questo infatti è un po' un problema sta diventando sempre di più un problema soprattutto nei confronti delle grandi aziende che hanno sempre più potere economico senti Paolo ti giro un'ultima domanda che questa volta è di una nostra collega che fa riferimento al manifesto di Venezia e chiede quanto chi scrive quindi chi fa informazione è consapevole dell'importanza della scelta delle parole che usa le parole che usa possono trasmettere messaggi positivi o negativi sì questo è adesso lo stavo lo stavo lo stavo cercando non so se ne avete parlato a scuola ma ci sono c'è un grande movimento negli ultimi anni di colleghi giornalisti di altre persone che comunque sono vicine al mondo dell'informazione per avere la massima attenzione quando si usano determinate parole vi faccio un esempio una regola che i brutti giornali e i cattivi giornalisti non seguono e che i buoni giornalisti seguono è quella di non mettere nel titolo la nazionalità di una persona che ha commesso un crimine vi spiego meglio se c'è una persona se ad Astia avviene una rapina il titolo deve essere in corso al fieri rapinata la gioielleria tal dei tali arrestato un uomo di 43 anni non rapina in corso al fieri arrestato un romeno oppure arrestato un marocchino perché non ha alcuna importanza il paese da cui viene questa persona rispetto al delitto la notizia è il crimine che è stato commesso utilizzare la nazionalità in un titolo vuol dire mettere l'accento sulla nazionalità e non sul fatto che questa persona delinque e se è vero che statisticamente ci sono più da un punto di vista di rapporto fra cittadini di quelle nazionalità presenti e crimini commessi magari c'è un rapporto più alto su certe nazionalità non è che dobbiamo nasconderci le cose però comunque fare informazione significa attribuire ai singoli individui la responsabilità dei comportamenti e non a un'intera nazionalità o a un'intera categoria e questo ad esempio negli ultimi anni si parla nel nostro giornale ma ben tutti si parla molto di femminicidi si è creata questa parola nuova per mettere l'accento sul fatto che molte donne sono vittime di crimini di omicidi o comunque di crimini violenti da parte dei loro uomini ex uomini aspiranti spasimanti e così via e oltre a usare questa parola noi adesso negli ultimi anni facciamo molta attenzione a non scrivere cose tipo è stata uccisa in un raftus di gelosia è stata uccisa in un impulso perché è un modo per giustificare quel delitto perché se io dico sono un marito geloso e ha avuto un raftus e ha ammazzato mia moglie voi sapete che nel codice penale italiano fino a non moltissimi anni fa quando ancora ero piccolo io c'era il delitto d'onore cioè il fatto che se mia moglie mi tradiva io avevo diritto ad ammazzarla e avere una pena mite magari non andavo neanche in prigione poi per fortuna è stato tolto ma se io oggi continuo a usare certe formule vuol dire aiuto a contribuisco a mantenere questa cultura violenta nei confronti delle donne quindi sicuramente si fa molta attenzione poi si fa anche molto cattivo giornalismo e purtroppo purtroppo poi qui non siamo entrati sul tema i social soprattutto facebook aiutano molto a diffondere il cattivo giornalismo per cui entriamo nel tema delle fake news e nel tema più generale degli algoritmi che purtroppo contribuiscono a far viaggiare più rapidamente delle notizie magari con un taglio decisamente razzista violento o anche falso piuttosto che notizie buone e scritte in maniera corretta ma questo è tutto un altro tema su cui vabbè se avremo tempo magari ci entriamo ma me ne occupo così da appassionato ma non da strettamente da professionista c'è chi è più competente di me senti Paolo ti giro l'ultima domanda ma proprio se riesci a dare rapidamente una risposta anche perché non vogliamo sottrarti altro tempo e insomma ci avviamo proprio alla conclusione dell'incontro però ci viene chiesto come è possibile contrastare il fenomeno del clickbait considerando che i giornali sono comunque aziende che quindi hanno interesse ad attirare i lettori sì ok lo sapete tutti di cosa stiamo parlando stiamo parlando di quella roba che allora vediamo se al fondo purtroppo anche al fondo delle nostre notizie spesso compare tutta una striscia di 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 notiziole generate automaticamente da un software in questo caso che rimanda notizie tipo guardate non crederete mai a cosa ha fatto questo uomo e si vede magari la figura poi un po' deforme di uno con un braccio grosso come una delle mie gambe questa roba qua si chiama clickbaiting funziona c'è stato un periodo molto peggiore adesso sui grandi giornali per fortuna è un po' finita quella roba lì c'è chi ne fa c'è chi ricorre ancora molto a questa cosa non è facile torno al discorso di prima gli algoritmi che governano youtube gli algoritmi che governano facebook eccetera tendono a tenere le persone dentro la piattaforma e quindi a massimizzare il tempo che le persone passano sulla piattaforma voi state su youtube lo sapete benissimo alla fine di un video ve ne propone degli altri come fa a sceglierli sceglie degli argomenti che hanno a che fare col video che avete appena visto ma spesso tiene in considerazione le notizie più gridate cioè le notizie video più gridate i video per cui se racconta che ne so questo è appena uscito questo iphone dirà i 12 motivi per cui non dovete assolutamente comprare questo telefono magari ce ne sono 15 per cui invece lo dovete comprare ma funziona di più una cosa molto negativa e molto gridata e finché noi saremo dipendenti dal potere di questi algoritmi alla fine come chi ha fatto la domanda è consapevole essendo attività economiche dobbiamo purtroppo rimanere un po' dentro a quelle regole lì si può cercare di scardinarle ma alla fine se vuoi portare a casa lo stipendio devi tenerne conto personalmente penso che in Europa ci si sta lavorando il potere di quelli che si chiamano over the top cioè di queste super aziende come Google Facebook anche Apple che ormai hanno tantissimo influsso sulla nostra vita andrebbe regolamentato un pochino meglio a tutti i livelli e anche abbastanza in profondità credo che ci arriveremo almeno in Europa ma sarà un processo molto lungo ti ringrazio moltissimo Paolo per il tuo tempo per la disponibilità a rispondere alle domande mi fa piacere anzi che i ragazzi dell'istituto abbiano colto questa questa occasione per insomma per come ponte per qualcosa di più quindi ci risentiremo sicuramente e ti metterò in contatto con loro e lascio la parola al nostro dirigente per un saluto se vuole ancora intervenire e saluto anche chi ha partecipato e chi sperando che sia stato di utile e di gradiente a me non rimane che ringraziare ancora una volta il nostro relatore che ha trovato il tempo di delinearci seppur per sommitati ovviamente non poteva pensare così alcuni degli aspetti di una professione estremamente interessante anche ammantata di così di un alone di leggenda se vogliamo no? ha iniziato con citare giornalisti famosi soprattutto in campo cinematografico e di Superman certamente ci sono ognuno degli aspetti che sono si toccati meriterebbero profondamente quindi come già detto forse un incontro non è ovviamente sufficiente a me viene in mente un tema interessante come il finanziamento pubblico dei giornali per esempio che potrebbe meritare un'attenzione particolare non in questo contesto forse non con gli stessi con gli stessi utenti e uditori grazie davvero molto di questi stimoli e come ha visto anche noi nel nostro microcosmo abbiamo tentato stiamo tentando con i ragazzi di maturare un'idea di gestione delle informazioni e quindi con il nostro Artem News proviamo a dire e a dare ai ragazzi delle opportunità di confrontarsi con questi grazie ancora a tutti come dire il mio staff i miei collaboratori che sono sempre qui con con me a dare la possibilità a tutti di seguire questi convegni in pillole grazie ancora al nostro relatore e grazie ai ragazzi naturalmente che è sempre iniziare a tutti a tutti Grazie a tutti